Dopo 15 anni di successo in campo medicale nel trattamento delle patologie muscoloscheletriche, le onde acustiche, pressoide e fluidodinamiche approdano il mondo dell'estetica. Mentre la medicina impiega queste onde in maniera focalizzata, in campo estetico sono trattate in maniera radiale, con una diffusione più aperta, ad ombrello. Nasce Dynamic Wave, nuovo approccio al trattamento degli inestetismi della cellulite, che si avvale di una tecnologia non invasiva. Dynamic Wave effettua un massaggio picchiettante previsto dalla nuova normativa, che rilascia una grande quantità di energia ai tessuti. Le onde acustiche e pressoide, fluidodinamiche, sono onde elastiche, che promuovono un'azione di compressione e decompressione dei tessuti, creando un movimento dei liquidi inter- e intracellulari, che favolisce una migliore circolazione sanguigna nel totale rispetto dei tessuti stessi. La sezione del manipolo tecnologico di Dynamic Wave mostra quanto avviene al suo interno. Un flusso d'aria compressa spinge, con grande energia, un proiettile contenuto in una canna d'acciaio. Il proiettile termina la propria corsa contro l'elemento di testa del manipolo, percuotendolo e trasmettendo l'energia ricevuta dall'aria compressa ad un disco di acciaio, che a sua volta irraggia l'energia ai tessuti. Il proiettile, nel frattempo, torna alla posizione iniziale, pronto a ricevere una nuova sollecitazione. Dynamic Wave coniuga la qualità del Made in Italy e la precisione svizzera. Messo a punto con un partner tecnologico leader nel mondo medicale, garantisce più alti standard qualitativi. Ogni particolare tecnico è stato messo a punto con la massima cura per garantire sicurezza, affidabilità e performance. Un software, frutto di anni di studi in ambito medico, calibra l'energia rilasciata ad ogni singolo impulso di Dynamic Wave e controlla che l'emissione rimanga costante nel tempo, assicurando la massima prestazione rispetto all'inestetismo trattato. L'ergonomia del manipolo, grazie alla speciale impugnatura anti scivolamento al silicone, è perfetta. Il manipolo è dotato di un sistema anti shock che assorbe gli urti garantendo il più totale comfort di lavoro. Dynamic Wave si avvane di una tecnologia semplice e flessibile e dialoga con l'estetista attraverso una tastiera high tech a sfioramento touch and go che rende facile, intuitivo ed immediato il suo utilizzo. Il trattamento può essere personalizzato a seconda della tipologia e della gravità dell'inestetismo trattato, scegliendo di agire su tre semplici parametri di lavoro. Pressione, misurata in bar, ossia la forza che viene esercitata sul tessuto. Frequenza, misurata in hertz, pari a quanti shot, ossia polpi, è possibile effettuare in un secondo. Numero shot, quantità di shot prescelta per ciascuna applicazione. L'azione del trasferimento mirato dell'energia acustica, pressoria, fluido, dinamica ai tessuti comporta tre principali effetti. Riduzione dell'edema e aumento dell'attività metabolica cellulare. L'azione dell'onda comprime e decomprime il tessuto, generando nei liquidi intra- ed extracellulari una corrente di movimento, detta jet stream, che ha come effetto il drenaggio dei liquidi e l'aumento dell'attività metabolica delle cellule, con conseguente eliminazione delle tossine delle cellule stesse. Vascularizzazione dei tessuti. L'azione di compressione e decompressione generata dall'onda incrementa il flusso sanguigno all'interno dei capillari. Aumentando significativamente la vascularizzazione e l'ossigenazione dei tessuti. Rimodellamento del collagene. L'azione di picchiettamento rompe le fibre di collagene, che si accorciano e si ricompattano, dando maggiore consistenza al tessuto. Con il tempo, le fibre cresceranno, ricreando i legami precedenti con un nuovo collagene di sostegno al tessuto. Dynamic Wave, grazie all'azione delle onde acustiche, pressorie e fluidi o dinamiche, riduce gli anestetismi della cellulite, aumenta l'elasticità tessutale, rassoda i tessuti, migliora l'aspetto di smagliature di recente formazione, aumenta la capellarità e l'ossigenazione dei tessuti. Dynamic Wave è supportata da precisi protocolli di lavoro. Il protocollo standard prevede una serie di otto trattamenti, due a settimana. L'applicazione è semplice, è sufficiente identificare la zona di lavoro, su cui stendere uno strato dell'apposito gel di trasmissione e procedere con l'applicazione del numero di impulsi adeguati a seconda dell'inestetismo. Dynamic Wave è veloce, in 18 minuti è possibile effettuare il trattamento completo per gambe e glutei. I risultati del trattamento sono visibili sin dalla prima seduta e la pelle risulterà distesa e compatta. Dynamic Wave ha la capacità di mantenere nel tempo le sue promesse. Gli effetti della sua attività si prolungano per i 4-6 mesi successivi all'applicazione. L'efficacia e la sicurezza del trattamento sono supportate da una grande quantità di pubblicazioni scientifiche internazionali. Dynamic Wave, per una silhouette nuova, a prova di sguardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti